Gentili telespettatori, buona giornata. Andrea Scanzi contro Giorgia Meloni. Beh, se non avesse Giorgia Meloni e il centrodestra da offendere non avrebbe niente da dire. Va in giro a promuovere il suo ultimo libro, che risulta decisamente anacronistico. Lui ha scritto questo libro quando cominciava il governo Meloni e prevedeva sciagure, disastri, spread di missioni. E il libro lo ha chiamato La Sciagura, dedicato al governo Meloni disastroso. Sta di fatto che in realtà questo governo non è disastroso, non è una sciagura, economicamente sta andando benissimo. Ci sono record ventennali superati, ovviamente c'è da risolvere il lavoro povero e sono sicuro che verrà risolto, però oggettivamente un governo fallimentare non è vero. Però lui ha scritto questo libro, che fa adesso? Non lo pubblica perché è tutt'altro? Però lui continua con La Sciagura e quindi va in televisione. Se hai scritto un libro che si chiama La Sciagura del governo Meloni, tu devi andare nelle trasmissioni a dire di tutto e di più contro la Meloni. Se no, che cavolo ti promuovi un libro che chiami La Sciagura, se dici che la Meloni sta facendo bene. E dice che ha vinto le elezioni perché è furba. Ha vinto le elezioni perché è stata votata. Non è che si è votata da sola. Ha vinto le elezioni perché gli italiani hanno votata. Perché è furba? Perché è furba? Ce lo spieghi, scansi, perché sarebbe furba? Quindi, secondo lui, è andata al potere perché è furba, ma non dice esattamente perché, almeno nell'intervista, magari nel libro lo dice. E poi si è ingraziata ai poteri forti. Però, parliamoci chiaro, nessuno ha mai capito esattamente che cosa siano questi poteri forti. Ma chi sono questi poteri forti? Poteri forti, ma con la parola poteri forti, questa cosa mitologica, ma tu sei un potere forte, nei poteri forti al plurale, come le destre, i poteri forti. Va bene. Poteri forti è facile, lo può dire chiunque. E poi aggiunge, facendo sostanzialmente la stessa cosa che faceva Draghi. Eh, se fa le stesse cose che faceva Draghi, e Draghi era idolatrato dalla sinistra, dire che la Meloni fa come Draghi, la sinistra dovrebbe essere più che contenta, anzi, dovrebbe allearsi con il governo, non fare più l'opposizione. Perché se sostanzialmente fa le stesse cose di Draghi, e Draghi era il mamma santissima dell'economia, la persona più lodata in Europa e nel mondo, eccetera, eccetera. Se Scanzi mi dice che sta facendo sostanzialmente come Draghi, e lui invece pensa di criticarla, dov'è il problema? Quindi se faceva la donna veramente di destra, quella estrema destra, era un conto. Ma se mi dici che non sta facendo il governo di destra, ma sta facendo il governo Draghi, sostanzialmente, dov'è la critica? Dovrebbe essere un elogio da parte della sinistra. Alla fine Meloni è come Draghi. Eh, Draghi era il vostro idolo indiscusso. Eh, il mamma santissima di tutto. Va bene. Voi direte, perché continui a dire mamma santissima? Boh, l'ho sentito in una trasmissione e mi è piaciuto. Deve essere un modo di dire che era un po' che non si utilizzava, no? Il mamma santissima. Vabbè, poi andrò a cercare esattamente l'etimologia di sto mamma santissima. Da dove deriva? Chi è stato il primo ad utilizzare questo mamma santissima? Quando ho tempo? Se ho tempo, andrò a cercarlo. Naturalmente, Scanzi fa la raffica di accuse, perché se presenta un libro che si chiama La sciagura, non è che può fare una raffica di complimenti. Tiziana Panelle fa una domanda. Se è vero quello che dici, e poi guardiamo i dati relativi alla credibilità e a come viene percepita Giorgia Miloni dall'opinione pubblica, vediamo che il suo gradimento è ancora altissimo. Quindi, dice, i conti non tornano. Sono gli italiani che non hanno capito che è una sciagura sto governo, dice la conduttrice, o hai capito male tu, dice la conduttrice a Scanzi, no? E lui dice, quindi, quindi... È andato in tilt, perché va in trasmissione a presentare la sciagura, libro contro la Meloni che sta facendo bene, e la conduttrice dice, ma allora sono gli italiani che non hanno capito, o sei tu che hai capito male con questa sciagura? Il quale replica... Sono gli italiani che ci mettono un po' a scoprire il blef. Quindi, come diceva ieri il fotografo licenziato dai Benetton, Toscani, diceva che gli italiani, l'italiano medio, per esempio, non capisce la Schlein, è troppo intelligente per l'italiano medio. Allora preferiscono Landini che un trombone. Ecco, quindi Schlein troppo intelligente, e italiani che non capiscono che la Meloni è un blef. Poi dice, quando lo scoprono sono efferati e brutali. Efferati e brutali quando lo scoprono. Parole a vanvera di questo Scanzi, parole al vento. Poi dice, c'è anche una bravura della Meloni. Molti italiani pensano che lei è brava, mentre il governo no. Quindi la bravura della Meloni sarebbe nel far capire agli italiani che lei è brava e però la squadra di governo è robaccia. Beh, il pensiero di molti è veramente questo. La Meloni è un conto, i suoi ministri e sottosegretari sono un'altra roba. Ma ricordatevi che quel governo l'ha eletto lei, è lei che ha nominato la Sant'Anché, è lei che ha nominato il Cognato, è lei che ha nominato la Russa, è lei che ha nominato Sgarbi, è lei che ha nominato Del Mastro, è lei che ha nominato Donzelli. Ecco, lei è brava ma quelli che ha nominato, che sono i fedelissimi amici e parenti, insomma saranno fedelissimi e poi quando parlano la Meloni si mette le mani nei capelli. E poi dice, beh, se uno guarda Rai o Mediaset difficilmente si accorge degli errori di questo governo. Ma questo è anche vero. Mediaset e Rai sono dei telegiornali di propaganda governativa. Oggi prima governava la sinistra e parlavano bene della sinistra, oggi governa la destra e questi telegiornali sono pro-governativi e quindi se c'è da criticare non lo fanno, se c'è da parlare bene lo amplificano. Questo è normale, basta guardare un telegiornale Rai di oggi rispetto a quello di un anno e mezzo fa e troverete le differenze. Ma è così che funziona. Arrivederci a tutti e grazie.